l'abbiamo visto in giro e ci veniva dietro gli abbiamo dato da mangiare abbiamo dato da mangiare e poi non andava via più via poi è andato via e andava in giro verso andava dietro tutte le macchine dietro tutte le persone e poi non l'abbiamo visto per due giorni stamattina mi ha chiamato la signora della benzina e mi ha detto che era lì e non sapevo cosa fare e l'ho portato qui però io non posso tenerlo perché io io devo partire non sono mai qui e lui si è affezionato tantissimo un cucciolone adesso intanto dobbiamo vedere se ha il microchip e se no speriamo che qualcuno lo abbia perso eccolo qui se qualcuno lo cerca o l'ha smarrito questo tutto lo si trova a Torinova può contattare noi al nostro lettore non risulta in microchip adesso la signora lo porterà anche dal dottor ferraro a controllare a fare una visita anche insomma per vedere che stia bene ma non può poterlo e quindi noi abbiamo speranza essendo così docile domestico che si sia smarrito che qualcuno lo stia cercando se così non fosse dovremmo trovare una sistemazione per lui anche perché ogni macchina che vede sale subito lo va cercando entra nei negozi va in giro cerca qualcuno cerca qualcuno e poi non sa dove andare si mette sotto i balconi sotto ad aspettare qualcuno la sua mamma che l'hanno chi l'ha abbandonato o chi l'ha smarrito quindi allora insomma ci chiediamo condivisione per questo post affinché se qualcuno l'avesse smarrito possa mettersi in contatto con noi e noi glielo restituiremo è un maschio giovanissimo ma è una dolcezza si vede che è stato diciamo in contatto con gente con binghe pure con con persone perché lui si fa toccare si fa abbracciare anzi ci dava la mano appena ci ha visto a vero ok ok